Che bello, abbiamo qui con noi, Francesco Gabbani a Radio Bruno! Eccomi! È bello anche per me, è sempre un piacere essere con voi. Come stai vivendo questa avventura da ospite nella serata delle cover, dei duetti? Va bene, è una bella avventura. Intanto quando si arriva nell'atmosfera del festival è sempre, banalmente viene da dire, emozionante. Perché è emozionante il festival in generale. Poi per me ovviamente è un luogo importante, un luogo denso di ricordi, emozioni importanti. Quindi è sempre un piacere venire. Quest'anno arrivo, diciamo, con ancora più emozione. Perché l'idea di condividere il palco con Fiorella, Fiorella Mannoia, è ovviamente un grande onore soprattutto. E a distanza di sette anni dall'ultima condivisione del palco, è stato nel 2017. Ricordiamo quel momento iconico. Allora, 2017, occidentali Scarma, che sia benedetta, quindi Francesco e Fiorella. E poi alla fine tu hai vinto, però ti sei inginocchiato davanti a Fiorella Mannoia. Io mi sono inginocchiato, credo che sia stato il mio inconscio che mi ha fatto fare quel gesto che poi, col senno di poi, guardandolo successivamente, mi sono reso conto che effettivamente è stato un bel gesto. Ma è proprio stato spontaneo perché è stato, insomma, è stato mosso da questo rispetto di cui parlavo prima, la grande stima che avevo e ho ancora, ovviamente, nei confronti di Fiorella. E perché, insomma, io non mi aspettavo, insomma, mi aspettavo di vincere quell'anno. Ero un outsider e quindi io per primo non me l'aspettavo. E quindi mi è venuto, insomma, da fare quell'inchino perché, da un certo punto di vista, è un po' come se mi fossi sentito in colpa del fatto di aver soffiato ad un artista così importante come Fiorella, appunto, la vittoria. Però l'invito di Fiorella a condividere il palco per, appunto, la serata dei duetti di quest'anno e diciamo che è un po' la prova del nove che va a sconfessare qualsiasi tipo di, come possiamo dire, supposizioni riguardo a presunte rivalità, no? Che ci possono essere stati o dissapori tra di noi, tra me e Fiorella, che ci possono essere stati dopo, appunto, il 2017, che non ci sono mai effettivamente stati e, insomma, cantare con Fiorella su quel palco sarà un modo proprio per dire siamo amici, stiamo ben insieme e soprattutto condividiamo questa grande passione per la musica e l'idea di emozionarsi, di divertirsi. Le prove ci sono già state, giusto? Le prove le abbiamo già fatte. Ma quindi puoi dirci se Fiorella ballerà? Vi devo spoilerare questa cosa. Diciamo che abbiamo scelto, diciamo, un accordo di fare una performance sicuramente sull'onda del divertimento e anche con un pizzico di ironia, quindi un po' scherzeremo, ecco, giocheremo. Hai una canzone che ricordi particolarmente, che cantavi? Allora, sì, c'è una canzone che, insomma, mi è già capitato di citarla, che è stata, devo dire, proprio, ero piccolissimo perché, non mi ricordo di preciso che anno fosse, ma è una canzone di Sergio Caputo che si intitolava Il Garibaldi Innamorato, che ve la canti più, faceva così, weppa, esa, passa Garibaldi, eccetera, eccetera. E vi cito questa canzone perché è un ricordo, perché è stata proprio questa canzone, guardare, seguire Sergio Caputo, io ero piccolissimo, con il mio nonno Sergio, aspettavamo fino a tardi, insomma, di vedere l'esibizione, perché a me piaceva particolarmente questa canzone. E devo dire che è stata la canzone che mi ha messo il seme, diciamo, per farmi, insomma, per far nascere dentro di me questo sogno, prima o poi, di riuscire ad arrivare al Festival di Sanremo. Che bello, con questa bella emozione, allora, salutiamo e ringraziamo Francesco Gabbani. Grazie a tutti voi. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.